Nome? Omar. Cognome? Dottore. Città di provenienza? Pescara. Quali sono le tue capacità professionali? Farmacellaio, pittore, muratore, imprese di pulizia, lavaggio delle macchine, qualsiasi tipo di lavoro. Le tue esperienze professionali? Ho fatto sei mesi alla Conad, dopo sul mare, stabilimento sul mare, ho fatto dopo una settimana di stagione con mio zio a imprese di pulizia, dopo ho fatto due mesi a Fulnaro con mio padre e mio amico. Che tipo di lavoro cerchi? Un'impresa di pulizia o pizzeria, Fulnaro, qualsiasi tipo di lavoro. Mi sta bene, sia di giorno che di notte. Perché un'azienda dovrebbe scegliere proprio te? Perché sono una persona serio, sincero, bravo, tanto voglio di lavorare. Sono proprio un monito.